Amici telespettatori eccoci con Polifemo, una puntata particolarmente ricca, un contenitore di spunti, di argomenti, quegli argomenti, quelle istanze di cui voi siete destinatari e protagonisti perché raccogliamo appunto le vostre esigenze. Partiamo da un seminario di aggiornamento che è stato organizzato da Confartigianato Taranto con riferimento alla nuova disciplina, al decreto sui fluorurati, una necessità di adeguarsi a queste nuove normative, ai nuovi standard di sicurezza, di rispetto dell'ambiente. Ma è stata anche un'occasione per scoprire la galassia di Confartigianato, di conoscere molti suoi iscritti, molti suoi dirigenti, capire la funzione, il ruolo, la specificità di una fondamentale e importante organizzazione di categoria come Confartigianato che ha una responsabilità enorme appunto quella di seguire appunto di dare manforte agli iscritti che poi sono quelli che operano nel settore, penso al discorso dell'impiantistica e quindi un servizio al cittadino. Ecco, il servizio al cittadino è la mission di Polifemo. La dottoressa Claudia Sadesi, segretario generale della Camera di Commercio di Taranto. Parliamo con lei del registro telematico nazionale, la nuova banca dati gestita dalla Camera di Commercio per Fgas e apparecchiature contenenti Fgas. Quindi un intervento dal punto di vista telematico per codificare, per disciplinare telematicamente questa nuova realtà, queste esigenze derivanti dalla nuova normativa. Sì, un importante intervento a livello normativo perché consente attraverso il sistema telematico e il registro nazionale telematico che per puntualità devo riferire viene gestito dalla Camera di Commercio regionale ovviamente con il supporto di formazione e informazione anche dalle singole Camere di Commercio territoriali, però è la Camera di Commercio regionale che riceve le iscrizioni importantissimo intervento normativo in quanto attraverso il registro nazionale vengono tracciate tutte le attività che correttamente sviluppano la loro attività quindi tutti gli eventi che non siano tracciabili nell'ambito del registro nazionale potranno essere indicati come non potenzialmente attivabili sul territorio quindi tutto ciò consente una trasparenza su un argomento che è particolarmente sensitivo su tutti i territori nel nostro a maggior ragione perché i gas fluorurati il cui registro viene istituito in buona sostanza sono altamente inquinanti e quindi è importante che la gestione venga fatta da imprese che hanno le certificazioni e che possono correttamente esercitare la loro attività Sul sito www.ecocamere.it è possibile trovare documentazione e informazioni Il primo passo è accedere al sito www.ecocamere.it che rappresenta l'area pubblica del registro telematico Nella sezione registro è possibile consultare l'elenco degli organismi accreditati e delle persone e delle imprese iscritte a registro La compilazione della pratica telematica è assistita da una guida online visibile utilizzando la posta pulsante Oggi è tutto in rete ed è giusto che sia così Parliamo di questo rapporto attraverso la rete tra il dato nazionale e quello locale e quelli locali Il registro di fatto ha un'accessibilità molto semplice attraverso il sito che si chiama www.efgas.it con un accompagnamento al soggetto che vuole iscriversi ci sono tutta una serie di indicazioni che aiutano il singolo imprenditore all'iscrizione Ovviamente il registro è nazionale quindi è accessibile da ogni territorio e da ogni computer perché la consultazione è per il singolo cittadino Cioè il soggetto che richiede un intervento da parte di un'impresa, faccio un esempio molto banale per la sostituzione del gas nell'ambito dell'impianto di condizionamento a casa In buona sostanza tramite la consultazione del registro può sapere se quell'impresa esercita correttamente la propria attività perché è certificato a livello nazionale attraverso organismi che siano di qualificazione dell'impresa stessa Questo è il fatto principale Oggi voglio partire da un punto zero nel senso che non parto già da un discorso con un'evoluzione Ma mettiamo un punto zero e cerchiamo di capire qual è il motivo di questa normativa di questi cambiamenti, di questi obblighi Questa normativa con l'842 è partita intorno al 2006 Anche col 303 del 2008 Diciamo siamo un po' in ritardo da affrontare oggi perché ancora oggi c'è gente che prende il patentino, che ci si certifica Angelo Marzia, artigiano, componente di Confartigianato, dirigente della stessa organizzazione di categoria Stiamo parlando di gas fluorurati e qui vogliamo però incentrarci sul rapporto che c'è tra voi operatori del settore, voi installatori e appunto la funzione di Confartigianato perché ovviamente vi sono nuove normative, vi sono nuove esigenze e quindi questo rapporto forte tra il singolo operatore e l'organizzazione di categoria è più che mai fondamentale Sì, tengo a precisare che faccio parte del gruppo installatori, manutentori di caldaia a gas impianti elettrici e climatizzatori Se creiamo e facciamo gruppo per affrontare le problematiche delle nuove normative dell'evoluzione che c'è nel nostro lavoro tutto questo ci sembra più facile se siamo affiliati a un ente in questo caso nella Confartigianato dove ci fa da sponda e da supporto in qualsiasi problematica che noi abbiamo dunque è inutile andare da una parte o dall'altra cerchiamo solo di fare gruppo per affrontare meglio le nostre problematiche per avere un futuro naturalmente più spianato con questa agevolazione che la Confartigianato ci pune Noi stiamo pagando sanzioni all'Europa proprio perché il nostro periodo è stato troppo transitorio e per attuare questa normativa e assorbirla a livello nazionale siamo stati più lenti rispetto ad altri paesi Anche perché, ripeto, le normative sono tante e varie ci sono degli adeguamenti e quindi è opportuno che vi sia un ente vi sia una realtà organizzativa che ovviamente in un certo qual modo vi orienti perché purtroppo l'evoluzione del mercato ci porta tante problematiche affrontarle come singola persona non ci porta da nessuna parte mentre affrontarle in gruppo con un Confartigianato alle spalle che ce l'ha belle e larghe ci propone di affrontare qualsiasi problematica e di spianarci la strada Ecco perché a volte ci vediamo arrivare delle situazioni molto rigide molto dure questo perché a livello europeo ci dobbiamo allineare a determinate situazioni per esempio generalmente l'evoluzione di un impiantista perché penso che oggi ho a che fare con la maggior parte dei impiantisti non ci sono frigoristi scuri parlo di refrigerazione Per avere un quadro una visione completa d'assieme sulla nuova normativa inerente ai gas fluorurati è giusto anche confrontarci con gli imprenditori e quindi ho al mio fianco Sonia Cuscito che opera appunto nel settore Quali le difficoltà per voi imprenditori dinanzi a questa nuova normativa perché una novità ovviamente comporta un adeguamento Come vi state muovendo in questa direzione? Sicuramente chiedendo la collaborazione delle associazioni di categoria che sono le uniche a potersi interfacciare sia con gli operatori locali che con chi legifera e chi può fare modifiche a livello nazionale ed europeo è importantissimo perché dobbiamo essere consapevoli in quanto imprenditori locali nella situazione tarantina è anche una situazione molto difficile e delicata ma anche come operatori proprio per i nostri clienti che la formazione è indispensabile e avere dei referenti preparati da chi poter contattare e a cui poter fare delle domande che sono la sostanza poi della nostra formazione è una cosa indispensabile L'evoluzione diciamo di un artigiano è stata fatta in base a assunzioni discepolo perciò guardo il mio maestro come lavora Antonio Gasparro dirigente di Confartigianato Taranto per quanto riguarda l'impiantistica come vi state muovendo rispetto a queste normative stiamo cercando normative inerenti ai gas fluorurati stiamo cercando di fare un'analisi a tutto tondo ascoltando il ruolo registrando il ruolo dell'organizzazione di categoria il ruolo degli operatori il ruolo degli imprenditori Innanzitutto l'associazione è quella che ci tutela la prima cosa da dire poi c'è il fatto che effettivamente la giornata di oggi rappresenta un momento per effettivamente espletare almeno a dei problemi che si sono presentati con le nuove normative vorrei lavorare l'azienda che io voglio aprire mi manca diciamo questa lettera mi manca l'elettrico come faccio come funziona devo prendere un responsabile tecnico per quanti anni eccetera questo cambierà diciamo che quello che si avvierà a livello scolastico andrà poi a formare quello che sarà l'artigiano o l'imprenditore a contempo del futuro andiamo proprio nello specifico quali sono le problematiche più scottanti tra virgolette che hanno comportato un maggiore impegno e adeguamento da parte vostra allora noi come associati eseguiamo giornalmente cioè periodicamente dei corsi di aggiornamento e di verifica dei nostri requisiti mentre sul mercato purtroppo c'è una quantità di una grossa percentuale che oramai tende a fare il nostro lavoro senza avere questi requisiti di cui parliamo grazie alla categoria grazie all'associazione e all'impegno che mettiamo scusate tutti quanti per essere presenti proprio per tutelare questo tipo di problemi riuscire penso che riusciremo a svolgere e ad arrivare alla conclusione che effettivamente si deve chi ha effettivamente dei requisiti e delle basi per poter effettuare e poter recepire queste nuove normative deve andare avanti una maggiore professionalizzazione del settore una selezione all'insegna della professionalità esatto sì effettivamente è proprio quello di fatti la cerchia noi pensiamo che in questo modo si restringerà in modo da dare opportunità a chi fa dei sacrifici e chi da anni oramai ha riposto nelle normative nuove la propria attività per poter fare svolgere nel migliore dei modi le lettere verranno acquisite in base a delle scuole delle certificazioni dei corsi perciò delle vite tecniche ben precise per riuscire poi ad esplendare un lavoro che sia quello dell'elettricista quello dell'impiantista Vincenzo Vincenzo Notaristefano dirigente di Confartigianato Taranto ovviamente del settore dell'impiantistica stiamo parlando di gas florurati delle nuove delle problematiche inerenti ma vogliamo fare un discorso un po' più ampio cercando di comprendere le esigenze le difficoltà di chi opera in questo settore magari anche zona per zona perché si parla di Taranto ma si parla della sua provincia lei viene da Mottola ecco le difficoltà le aspirazioni come poter assolvere al meglio alla vostra funzione che non è solo una funzione diciamo dell'imprenditore che fa impresa ma svolgete un ruolo importante di servizio alla collettività con una mission che è quella della sicurezza Certo noi oggi aziende che comunque siamo nel settore da molti anni ci troviamo ad affrontare una situazione molto drammatica chiamiamola così perché la realtà dei fatti è quella perché noi che abbiamo fatto corsi studiato patentini e quant'altro varie qualifiche riconoscimenti aggiornamenti vari il problema di base più grosso è che ci dobbiamo confrontare con chi non ha nulla in mano oggi ciò che si chiede maggiormente allo Stato è più controlli e verifiche per queste persone in tutti i sensi perché alla fine realmente noi non ci sentiamo protetti dobbiamo rispettare tutto però realmente diciamo sì io devo fare quello devo fare quello chi ha operai tipo io un'azienda con quattro operai comincia a diventare difficile anche mantenere i quattro operai perché rispettare tutte le normative vuol dire avere costi oggi mantenere i costi vuol dire che i soldi devono entrare chi di voi diciamo non è un idraulico puro nel senso che cerca di affrontare tutta è un tecnico mi capisce cioè nel senso quanti corsi è andato a fare perché è cambiato quel prodotto o è cambiato quella situazione non devo essere più informato su quest'altra aumentato il livello di tecnicismo e qui possiamo aprire il discorso per condannare e davvero marginalizzare eliminare il fenomeno dell'abusivismo perché chiaramente quando parliamo di sicurezza certe attività devono essere poste in essere da soggetti che hanno come dice lei una qualifica che hanno fatto dei corsi chi si improvvisa oltre a violare la legge crea problemi di sicurezza certo oggi il problema di base è proprio quello perché chi è improvvisato pensa di sapere tutto e saper fare tutto il cliente finale alla fine ciò che vuole perché la crisi è quella che è il cliente finale vuole comunque risparmiare per cui noi ci troviamo a lavorare molto meno e nel come dire complessivamente appunto solamente stiamo perdendo tanto nonostante i nostri supporti tipo la compartigianate e quant'altro tipo la riunione di sostengono di supporto quant'altro però il problema è sempre lo stesso dobbiamo combattere con il lavoro nero per cui bisognerebbe fare qualcosa per ridurre questo lavoro nero eliminarlo proprio l'aspirazione massima e questo devono fare le forze le istituzioni possiamo fare sicuramente noi per il resto noi continuiamo ad andare avanti perché comunque dobbiamo lavorare però ciò che si chiede appunto allo Stato alle autorità e quant'altro è di darci una mano in tutti i sensi si parla di agevolazioni fiscali per mantenere gli operai e quant'altro però normalmente le agevolazioni chi ce le hanno le grosse aziende che tengono operai un anno due anni e poi li mandano via noi che abbiamo operai fidelizzati da dieci anni oggi ci tocca mantenere dei costi molto elevati e quella è la situazione allora proprio per questo motivo noi oggi ci troviamo ad affrontare quella che è per esempio come in questo caso la situazione dell'effegas in questa sede nell'incontro relativo alla normativa e ai relativi adeguamenti per i gas fluorurati stiamo conoscendo il mondo la galassia di confartigianato e ho qui al mio fianco Giuseppe Scacchetti che è appunto il responsabile provinciale e regionale di confartigianato per quel che riguarda il settore il comparto degli elettricisti beh parliamo di queste difficoltà perché voi siete degli imprenditori l'artigianato fa muovere l'economia la piccola impresa è il primo io dico ingranaggio che mette in moto un settore più ampio si vive la crisi a livello nazionale regionale e in modo particolare a Taranto come si fa ad andare avanti dovendo appunto far quadrare i conti dovendo assicurare ovviamente la regolarità degli stipendi ai dipendenti dovendo garantire ovviamente degli standard di sicurezza per l'utenza si va avanti per quello che si può diciamo perché come lei ha detto prima ci sono molte difficoltà e proprio per questo noi di Confartigianato siamo molto vicini agli artigiani quindi facciamo questi corsi affinché l'artigiano si senta comunque tutelato sappia le normative sappia andare avanti ed esporsi di fronte ai clienti quindi questo è il nostro punto diciamo forte perché andando di fronte ad un cliente uno ci si distingue dalla massa che c'è che c'è la qualità che fa la differenza che fa la la differenza e la nostra professionalità ecco è questo che fa la differenza di chi si diciamo accinge a fare si improvvisa magari anche perché poi parliamoci chiaro quando accadono sciagure incidenti e poi come si suol dire si piange il morto si piange sul latte versato e magari si scopre che quell'impianto non era norma perché era stato fatto alla Carlona sì infatti è così e chi paga in questo caso è innanzitutto il cliente finale che forse non lo sa no quindi perché poi l'utente immaginate un incendio cosa può succedere in questo caso effettivamente chi paga poi il cliente finale perché non è tutelato da un professionista che potremmo essere noi intanto facciamo i lavori a regola dell'arte quindi veniamo a fare questi corsi apposta per sapere tutte le norme cosa che un cliente finale o un semplice impiantista che lavori a nero non sappia fare ecco è questo per questo come lei ha detto prima ci distinguiamo proprio e andiamo avanti proprio per questo cosa qua ecco e noi di Confartigianato siamo molto ripeto siamo molto vicini agli artigiani su queste su queste informazioni su tutto quello che che la normativa e le leggi prevede in in Italia ecco sì sì l'R12 R12 era un CFC distruttivo per lo zono assolutamente distruttivo per lo zono alcuni refrigeranti venivano usati all'interno di bombolette estrai per colorare perciò diciamo che venivano rilasciati con una certa facilità e inconsapevolezza in ambiente Giovanni Palmisano è il responsabile di Confartigianato Taranto per quanto riguarda il comparto dei termoidraulici dicevo questa nostra presenza qui ci ha permesso ci sta permettendo di conoscere appunto i vari soggetti che operano nei vari ambiti di Confartigianato Parliamo delle problematiche del suo settore dei termoidraulici come si è evoluta negli anni l'attività e quali sono le difficoltà del momento Indubbiamente c'è un'evoluzione continua e costante nel settore quindi necessita anche formazione soprattutto oltre che informazione e oggi è una di quelle giornate dove parliamo anche appunto degli effegassi che riguardano non solo noi ma anche i clienti finali in quanto le varie aziende devono essere certificate secondo le nuove direttive questa dà garanzia all'utente finale di avere un'installazione fatta a norma e quindi garantisce anche il buon funzionamento degli apparecchi stessi noi regolamente come confrattigianato abbiamo anche uno staff tecnico infatti oggi è presente l'ingegner Pinto che collabora con noi da anni e ci dà appunto la dovuta formazione per essere appunto aggiornati il problema è che questi gas clorurati sono molto dannosi per l'ambiente fortemente dannosi infatti avete subito chi di voi già un po' fattava il famoso R22 gas diciamo molto efficiente perché a volte è anche difficile scomodare un nostro cliente che ancora ha lo split prima inzitatore ad R22 perché diciamo sulla sua efficienza sulla sua qualità di raffreddamento della macchina non si dispute però i vari protocolli che sono quello di Pioto ci hanno obbligato a togliere le R22 Franco Basile presidente del settore manutentori di impianti termici di confartigianato Taranto lei opera nell'area di Martina e allora una doppia domanda intanto le difficoltà del settore l'adeguamento alle nuove normative le differenze rispetto al passato magari a dieci anni fa come si è evoluta diciamo la materia e poi nello specifico come vanno le attività in quel di Martina proprio nell'ottica di conoscere meglio il territorio lo abbiamo fatto con altri suoi colleghi prima abbiamo parlato per esempio della realtà di Mottola ora ci spostiamo in Vale d'Itria per quanto riguarda Martina stiamo crescendo abbastanza bene perché tutti con confartigianato siamo riusciti a tutti i tecnici che operano sulle caldaglie di fare aggiornamenti corsi quindi con il nostro aiuto di confartigianato siamo riusciti a creare un buon gruppo e dove riusciamo ad intervenire facendo delle manutenzioni adeguate sul territorio quindi avendo creato anche un gruppo di vari professionisti vogliamo partire il protocollo di Montria che era fatto ci ha dato un passo per fare l'evoluzione dal CFC all'HCFC perché diciamo era quella parte di cloro che veniva messa nell'ambiente che andava a disturbare il mio ozono visto che oggi vi siete presi il tempo abbiamo un po' di tempo per parlare magari entro anche un po' più nello specifico così vi può essere come informazione generale perché abbiamo abbiamo lo ozono che è un'antriconegola di ossigeno ecco Basile rispetto a dieci anni fa per esempio cosa è cambiato? Beh è cambiato tantissimo perché prima ci si andava un po' alla io sparsi per non c'era quella organizzazione ecco adesso abbiamo un buon gruppo dove riusciamo a organizzarci a stare a fare gruppo con affrontare nuove normative le nuove discipline con confartigianato siamo riusciti a organizzare vari settori vari corsi per unire e andare a fare manutenzione tutti insieme allo specifico il problema della CO2 perché è una molecola che permane nell'ambiente e il problema sta proprio là perché se noi non vediamo il rifiuto non ci sensibilizziamo all'uso di questo qua di quest'ultimo Nicolangelo Bitella opera in quel di Ginosa anche lui è appunto un operatore nel settore ovviamente dell'impiantistica un manutentore di impianti termici parliamo proprio nell'ottica di conoscere meglio il territorio e gli artigiani che sono i protagonisti dell'economia piccola ma fondamentale pulsante parliamo della realtà di Ginosa è una realtà di circa 20.000 abitanti e in linea credo con il resto della provincia sul discorso delle manutenzioni impianti gas cerchiamo di portare avanti gli adempimenti normativi anche se è difficile al giorno d'oggi perché non ci sono i controlli c'è sempre da combattere con i soliti problemi locali delle aziende che cercano di lavorare bene e si certificano e frequentano corsi di aggiornamento e poi comunque ci si trova a fare i conti con la parte diciamo nera oscura che non diciamo non viene a galla per via della mancanza diciamo dei controlli perché se io diciamo non tipo diversi casi che ci sono stati a Napoli spazzature in mezzo alla strada buttate in ogni e dove ci sensibilizziamo perché magari la vediamo vediamo il nostro paese sporto e perciò cerchiamo di migliorarlo purtroppo ad oggi il migliore dei refrigeranti perché poi arriveremo dopo il refrigerante anche a modo suo non inquina nello stesso modo ovviamente voi avete alle spalle una grande categoria che è quella di confartigianato confartigianato ci aiuta molto in questo diciamo con la formazione ci segue nella formazione ci aiuta nella preparazione l'adeguamento anche alle normative come quello di oggi sul gas fluorurati quindi ci invita sempre a questi corsi per noi associati è un grande aiuto che diciamo non siamo tersi diciamo lasciati a se stessi lasciati a se stessi rappresenta diciamo una guida puntuale in questo il problema è che la CO2 inquina e non riusciamo diciamo a debellarla molti gas inquinano più di altri tipo l'R410 dobbiamo parlare di circa per equivalere a un chilo sto parlando solo un chilo di 410 stiamo parlando di circa 25-30 mila chilometri fatti con un'utilitaria l'equivalenza di peso è quella altro manutentore Luigi Loperfido iscritto ovviamente a Confartigianato Taranto titolare della termogas parliamo di questa impresa non per fare pubblicità all'impresa ma per capire in che modo vi muovete operando sul territorio avete come dire il termometro della situazione grazie a Confartigianato diciamo che ci siamo molto allineati a un comportamento diciamo nei confronti dell'utente finale abbastanza diciamo un po' uguale per tutti linea con le nuove normative certamente per cui un costante aggiornamento per tutto ciò che concerne appunto le nuove normative la sensibilità per l'ambiente per cui si sta sviluppando sempre di più e anche l'utenza diciamo finale almeno per quelle che sono le mie le mie esperienze devo dire che anche l'utenza finale sta rispondendo abbastanza bene cioè hanno capito che ognuno deve fare il suo indubbiamente certo oggi la tecnologia e il taglio per i protocolli perché i protocolli ci stanno obbligando a limitare le produzioni di refrigerante sempre più inquinante come lo è stato l'R22 ad oggi se una macchina si rompe l'R22 siete obbligati a fargli un retrofit cioè ad andare su 422D ci sono tanti artigiani che hanno dato davvero la vita il cuore in tanti anni di attività ed era giusto ed è giusto che questa storia non finisca con il semplice pensionamento ma è opportuno che tutto quel background tutto quel patrimonio io dico culturale perché artigianato vuol dire anche cultura del territorio non venisse disperso motivo per il quale è nata l'ANAP l'Associazione Nazionale Nazionale Artigiani Pensionati e quindi qui ho al mio fianco Giovanni Lippolis che è appunto il presidente provinciale per Confartigianato una esperienza la sua ultra decennale tanti tanti decenni ora messa a disposizione delle nuove leve si buongiorno com'è nata questa idea no l'idea l'idea è nata alla Confartigianato si si no dico da parte sua di mettersi a disposizione di mettermi a disposizione e poter come ha detto poc'anzi di mettere a disposizione questa esperienza che ho fatto nel settore quindi con la consapevolezza di tutte le problematiche che possono essere degli artigiani e degli autonomi in genere cercare di diciamo di proseguire questa mia esperienza anche nell'accompagnamento delle problematiche che possono avere i miei colleghi anche dopo aver chiuso essere diciamo essere diciamo una guida una guida e diciamo prendere e fare proprie quelle che sono le opportunità che Confartigianato nazionale mette a disposizione degli artigiani di genere il problema è che noi facciamo una guerra discussione interroma parliamo di tanti di questi seminari che sono bellissimi dal punto di vista formativo però il problema attuale nostro è che si producono tutti questi refrigeranti quindi a scapito delle nostre competenze vediamo comunque sostegno dei costi aggiornarci acquistare ad acquisire nuove attrezzature eccetera eccetera se vogliamo retrofit delle centrali piuttosto che scritto impianti eccetera però il problema è quello che oggi ancora oggi non esiste un'unità di misura che va a verificare che io sono certificato e posso operare su quelle macchine e poi devo scomprare con delle persone le figure che non hanno nessun tipo di attestazioni nessun tipo di non hanno conseguito nessun tipo di titolo di qualifica però vanno a operare quindi io mi trovo a dover sostenere una vede di costi eccessivamente alti perché la certificazione è un costo annuale il mantenimento del patentino la revisione delle attrezzature tutte queste belle bellissime cose però non trovano in logica in quanto io mi trovo poi a scontrarmi con delle persone degli installatori dei tecnici da virgolette che tutto sono fulche tecnici mi spiego quindi io mi sento preso per il sedere per non entrare più che altro non si sente tutelato ma come lei pensa tutela classica tu mi sei stato a simile a piccolisti sparsi in tutto il territorio nazionale quindi e poi mi trovo delle colleghe a crisi di gas della Romania dove comunque in Europa è bandito l'E22 l'E22 l'E502 l'E3 l'E11 che era altamente da giusto per non sono solo però poi vengono comunque in mezzi del mercato nazionale anche per questi gas vengono in mezzi legalmente però non è che si devono controllare e verificare e tutelarci dove sono Cosimo Acoto viene da Statte è un altro dirigente di Confartigianato sempre nel settore appunto delle manutenzioni parliamo un po' della sua attività di come vanno le cose a Statte perché ovviamente ci sono tante normative sempre in evoluzione adeguarsi alle stesse e stiamo cercando di fare così un'analisi la quanto più composita e completa possibile all'interno appunto della provincia di Taranto sì allora io sono Cosimo Acoto opera Statte ex borgata di Taranto comune autonomo dei più giovani da 25 anni ma sempre l'ultima certo e niente i problemi che abbiamo a Statte sono i problemi comuni un po' di tutta la zona di tutta la provincia direi anche quasi tutta l'Italia però quello che devo dire io che trovo positivo facendo parte di un'associazione di categoria è una realtà che mi supporta molto nel mio ambito del lavoro dove la continua evoluzione delle normative vigenti comportano un continuo aggiornamento dove per piccole realtà come può essere la mia che è una ditta individuale l'utilità di un'associazione di categoria è veramente positiva perché ci permette mi permette di poter costantemente aggiornarmi su quelle che sono ripeto le normative e mi aiuta nel settore da poter anche interagire col cliente finale che spesso non ha la possibilità di poter essere aggiornato su quello che è l'evoluzione nel campo quindi una giornata formativa come quella di oggi che riguarda la gestione delle macchine ad apparecchiature gas a effetto serra è senz'altro una giornata molto estremamente positiva e direi dovrebbe essere pubblicizzata molto di più anche a livello di cittadino privato perché spesso mi accorgo interfacciandomi con la gente che il pubblico è ignorante non che sia ignorante ma non conosce le normative quindi noi siamo da tramite tutta la gestione e la movimentazione di refrigerante avvenga qua tutto quello che avviene fuori da qua è legile è sanzionabile come l'attività di installazione la macchina deve essere caricata con i documenti del proprietario dell'impianto qui vi fa vedere per esempio un libretto elettronico della qualificatura questo ci richiamo un po' alla fatturazione elettronica che con tutti adesso abbiamo imparato ad usare dovevi farmi vedere gli esiti dell'intervento e lo stato dell'intervento perciò se lo stato è negativo dell'intervento rimane diciamo un documento una persona una via un indirizzo che effettivamente in futuro può essere società controlla complessività delle macchine e parlo sempre di circuito frigo non parlo delle singole cioè spalla a spalla e a seguire supera i 12 kilowatt stiamo parlando di circa oltre i 36.000 btu se supera i 12 kilowatt deve essere redatto l'ipretto di impianto e seguite le manutenzioni secondo M3708 sono singole sono singole sono al di sotto perciò se l'ente territoriale come per esempio io vi richiamo sempre Lecce che ha istituito che non è 12 kilowatt perché la normativa se può essere diciamo più restrittiva non può allargarla ma può essere più restrittiva ha deciso di mettere i 4 kilowatt Francesco Peluso altro operatore nel settore degli impianti termici e ovviamente iscritto a Confartigianato parliamo delle difficoltà delle evoluzioni nel suo settore lei opera a Taranto sì io opero a Taranto da tantissimi anni mi occupo di installazione e manutenzione di impianti termici su Taranto soprattutto caldaie e niente ultimamente su Taranto ci sono stati vari cambiamenti per quanto riguarda i controlli sui impianti termici in particolare appunto sulle caldaie ultimamente se ne è occupata diciamo la provincia di Taranto che in questi ultimi mesi ha affidato il controllo degli stessi impianti a una ditta esterna che si è già insediata da pochi mesi da gennaio e che presto inizierà anche a fare i controlli diciamo sul campo chiaramente dobbiamo giustamente dargli del tempo l'unica cosa che vorrei sottolineare vorrei dire è quella di pubblicizzare questa cosa perché in pratica molti utenti ancora non sanno che dell'importanza soprattutto delle verifiche degli impianti termici delle caldaie e quindi fare un'informazione una campagna pubblicitaria un qualcosa che appunto faccia risalto proprio di questa cosa ed è una cosa insomma importante che bisognerebbe fare stiamo parlando di già tutte le attività non so punto SNAI mi rientra in quel discorso ovviamente tutto sta a vedere se l'impianto è fonte primaria in attesa sempre di un regolamento regionale che dovrebbe poi unificare tutto perciò il comfort le dichiarazioni del PM3708 cioè il ma è il refrigerante quindi sono macchine singole non si somma la quantità di gas no 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 ed inoltre questa è una una piccola parentesi il concetto legionella è stato preso nel mirino perché rientra all'interno dell'8108 salute abbiamo ascoltato tanti operatori del settore abbiamo parlato del ruolo svolto da Confartigianato Taranto e siamo con il suo direttore Fabio Paolillo e allora una giornata in cui ci si è occupati ovviamente delle nuove normative delle applicazioni inerenti appunto alla disciplina per i gas fluorurati ma abbiamo parlato anche del ruolo di Confartigianato del supporto che Confartigianato dà ai suoi iscritti il supporto che noi diamo da tanti anni è totale sia dal punto di vista della formazione che dal punto di vista dell'organizzazione per svolgere determinati adempimenti le presenze di questa mattina sono la testimonianza di un apprezzamento da parte dei nostri iscritti sulla bontà del lavoro che stiamo facendo e soprattutto un apprezzamento sulla Confartigianato e questo non può che essere di stimolo darmi ancora di più stimolo per fare ancora di più una materia quella soprattutto nell'impiantistica che si evolve perché ovviamente ci sono degli standard da garantire standard di qualità standard di sicurezza standard appunto di tutela ambientale in questo voi supportate proprio materialmente i vostri aderenti possiamo dire con tutta tranquillità che oggi questo settore rappresenta una delle eccellenze per quanto riguarda l'economia tarantina ovviamente nessuno lo sa nessuno ha questa percezione solitamente il mondo il settore artigiano il mondo artigiano è un settore silente testa bassa e lavorare raramente viene valutato per quello che è però se vediamo questa città si sta mantenendo grazie alla piccola impresa questa comunità si mantiene grazie e questa economia si mantiene grazie al grande apporto che sia anche dal punto di vista occupazionale che danno le piccole imprese con Fartigianato per quello che può fare sta a fianco di queste imprese per portarle sempre più avanti nello sviluppo nella preparazione nella formazione e anche in quelle caratteristiche che le stava dicendo cioè il fatto di adeguarsi a queste continue di standard tenga presente che la giornata di oggi è una delle tante giornate di formazione che con Fartigianato fa cioè fa parte di un programma annuale noi abbiamo ovviamente su materie specifiche su normative che hanno una continua evoluzione deve essere garantita secondo l'81-08 cioè lì si parla di sicurezza degli ambienti di lavoro non parlo del privato si spera magari che vada nel privato perché a volte trascurare quelle macchine ci si parla di legionella fascio di pulizia attuazione i nomini sono giusto interessati sì sì ma mi perdoni al di là della manutenzione ordinaria annuale che viene effettuata a livello documentale cinque macchine singole direttore abbiamo sottolineato l'apporto e il supporto di confartigianato ma confartigianato è una realtà a livello dirigenziale molto ma molto ampia vari soggetti che magari anche dietro le quinte hanno un ruolo fondamentale lei è il direttore poi c'è anche il presidente D'Amico certamente il presidente D'Amico è a capo da tanti anni della nostra associazione una grandissima esperienza tanti pregi tra cui quello di lasciare lavorare i vari presidenti di categoria che non accade in tutte le realtà ci dà molti consigli ed è un punto di riferimento non solo mio ma di ogni iscritto di confartigianato di riferimento di riferimento